Questo programma è offerto da Centro Sportivo Football 24 Un'oasi sportiva immersa nella città Le previsioni del tempo per la provincia di Messina Domani 4 gennaio nubi irregolari caratterizzeranno l'intera giornata Le temperature non subiranno variazioni e saranno comprese tra i 13 e i 17 gradi I venti soffieranno moderati da sud e sud-est sul versante tirrenico e su quello ionico I mari poco mosso il tirreno e lo ionio I mari poco mosso il tirreno e lo ionico I mari poco mosso il tirreno e soc Rs. I metteo un po' savez nubi irregolari caratterizzer lease I che momisco ilrendo né Grazie a tutti.